Dal primo gennaio niente più buoni pasto per la cena agli ospiti del dormitorio comunale di Via Pasubio attreviso per loro, se lo desiderano, disponibile un pasto caldo alla mensa Caritas, che però non è proprio dietro l'angolo. Credo che sia qualcosa veramente grave, anche perché costringe gli ospiti del dormitorio, che già hanno tutta una serie di problemi, a doversi recare presso la mensa della Caritas, che però dista 40 minuti a piedi dal dormitorio di Via Pasubio. Il tutto con le temperature rigide di queste settimane. Credo che non siano delle condizioni umane che nel 2017 un comune come quello di Treviso può accettare, quindi è assolutamente necessario che il vice sindaco Grigoletto riveda questa convenzione reinserendo i pasti e anche lasciando un po' di più elasticità negli orari di apertura del centro, consentendo a questi ospiti di stare anche all'interno della struttura in caso di temperature troppo rigide. Per la mensa ha solo uno spostamento logistico, replica il vice sindaco. In questo modo abbiamo potuto risparmiare e investire ciò che si risparmiava, investendo su quattro inserimenti lavorativi senza fissa dimora. Quindi abbiamo investito su quest'altro fronte. Al sindaco Manildo Conte chiede apertamente di togliere la delega al sociale a Grigoletto. L'ex assessore Manfio dice avrebbe dimostrato ben altra sensibilità su questo tema. Ricordo che proprio il partito del consigliere Conte, lui tra i firmatari, più di un anno fa, quando la delega era dell'assessore Manfio, chiesero appunto al sindaco di ritirare la delega all'assessore Manfio. Quindi il consigliere Conte la invito a mettersi d'accordo con se stesso.